Noi abbiamo pensato di proporre questo incontro sul tema della menopausa, dando la priorità a questo tema, perché mentre in passato la menopausa si collocava nella fase finale della vita della donna, attualmente con il prolungarsi dell'aspettativa di vita, la menopausa si colloca proprio invece nella fase centrale, nella fase di piena attività della vita della donna. È una fase delicata, una fase in cui delle importanti modificazioni ormonali hanno delle evidenti ripercussioni sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista psicologico. Abbiamo quindi pensato di proporre un'offerta che si avvalga della collaborazione di più professioniste, proprio perché data la complessità di questa fase riteniamo che soltanto mettendo insieme le specifiche professionalità si possa effettivamente offrire alla donna un aiuto valido per percorrere questa fase di vita in modo tale da poterla vivere in maniera serena, con la consapevolezza che si debba trovare un nuovo assetto psicofisico, ma con l'altrettanta consapevolezza che non si tratta di un periodo di malattia, ma di un periodo fisiologico che come tale deve essere affrontato.